Non possiamo più accogliere questa gente che ammazza le proprie figlie. Sono dei razzisti in casa nostra che fanno i prepotenti con i soldi dello Stato italiano anche dentro le televisioni italiane. Ne parleremo dopo. La televisione è sua, l'OMG, è questo, come si chiama, Guglie, che viene qui a fare le funzioni a spese nostre in casa nostra. Lei è un provocatore, un provocatore, un amico delle OMG che riempiono di immigrati, che riempiono l'Italia e che fanno una politica a causa di imparate. Lei vada nel suo paese a imparare la democrazia e faccia il cittadino del suo paese e scappare dai suoi doveri e dalla sua patria. Vada a aiutare il suo paese a crescere e non faccia il moralista in Italia. Ma guarda che razzismo, razzista, razzista, razzista.